Erasmus Plus è gestito da agenzie e quindi in ogni paese c'è un'agenzia che firma i contratti con l'Unione Europea e poi seleziona i progetti e tiene rapporti con le università, verifica anche il corretto utilizzo da parte delle università e delle scuole dei fondi. In questo momento l'agenzia utilizza quasi il 100% dei fondi europei, dico quasi il 100% perché purtroppo in alcuni casi abbiamo degli abbandoni o delle defiance all'ultimo momento e non riusciamo a sostituirli, nonostante che noi facciamo un overbooking proprio in previsione di questi abbandoni. Sarebbe giusto moltiplicare i finanziamenti perché abbiamo una candidatura tre volte quelle che riusciamo a finanziare e quindi questo nell'università, nella scuola addirittura dieci volte, per cui se avessimo più fondi potremmo sviluppare meglio il nostro obiettivo.